Alla luce di tutte le condotte persecutorie, le minacce e tutta una serie di aspetti legati alla vicenda giudiziaria che se Marisa non avesse ritirato le denunce, verosimilmente sarebbe arrivata a condanna. Io mi domando, ma quante altre volte bisogna mettere a rischio le donne per un principio di bigenitorialità che non ha alcun senso applicare quando ci sono uomini violenti? Se quel giorno lui non avesse avuto la bambina con sé e non avesse avuto la possibilità di torturarla per una settimana sarebbe mai caduta in questa trappola? Io vorrei che qualcuno rispondesse con coraggio a questa domanda perché temo che Marisa sia morta per una serie di circostanze e di decisioni sbagliate.